Fai video? Allora sai senz'altro che la parte video è meno essenziale dell'audio. Un audio facilmente intellegibile è sicuramente molto più importante di una immagine super nitida e risoluta. È quindi necessario curare con molta attenzione la qualità dell'audio catturato nei nostri video. Qui di seguito vi racconto e confronto i diversi microfoni che uso per lavorare. Sono molti, ma perché per ogni attività ci vuole un microfono specifico. Premetto che i microfoni di cui parlerò sono tutti di ottima qualità e registrano un ottimo audio nella categoria in cui sono. Parlerò di quattro shotgun e di due lavalier. Tra parentesi qui siamo a Gorlago in piazza Gregis che è uno degli ultimi cantieri che ho fatto. Abbiamo riqualificato la piazza. In verità non è ancora proprio finita perché stiamo completando proprio un'ultima parte di lì. Un grande vantaggio del fare la direzione dei lavori qui a Gorlago è che proprio in piazza Gregis c'è pizza in piazza che fa una pizza spettacolare. L'occasione è Yotta per una precisazione. Quando è meglio il lavalier e quando è meglio lo shotgun. Lo shotgun è quello che ho montato adesso sulla GoPro ed è l'ideale perché è la cosa più pratica che si può vedere. Registra bene la voce, registra bene il suono del contesto. Non lo fa bene, però se vuoi una registrazione della sola voce, ti ho fatto anche pubblicità, però se vuoi registrare bene solo la voce e isolare molto bene il suono della voce rispetto al contesto, senti che casino c'è qua, il lavalier è migliore. La grande differenza sta nella distanza dalla bocca del microfono. Io adesso ho la camera davanti tenuta col braccio, sarà 50 cm più o meno. Il lavalier è decisamente più vicino. Considera che ogni raddoppio della distanza tra il microfono e la bocca equivale a una caduta della potenza del suono di 4 volte perché è una curva esponenziale. E quindi una piccola differenza di distanza è una grande differenza in qualità dell'audioripreso. In pratica se sei in studio o hai tempo per preparare il setup della macchina o hai assolutamente bisogno di una ottima qualità della ripresa della voce, lavalier. In tutti gli altri casi, come ad esempio in questo, dove ho un sacco di roba da fare, stavo facendo una direzione dei lavori e voglio raccontare 4 cose sui microfoni, viva lo shotgun! Tra un'ora arrivo in studio e iniziamo con i confronti. Eccoci, pronti per i confronti. Ah, devo dire che questo video lo sto preparando da mesi, quindi non tutte le riprese sono fatte in questo periodo. Alcune, ad esempio questo confronto che vediamo, è fatto nei mesi scorsi, addirittura forse prima dell'estate. Ecco il confronto in molti microfoni che utilizzo normalmente. Questo è il lavalier MCO Plus MCO LVD 600. Sentiamo come registra il suono della mia voce in ufficio. La registrazione è fatta impostando il guadagno del paramplificatore della camera a 0 dB e non ho ritoccato i livelli in montaggio. Ecco, confronto i molti microfoni che utilizzo normalmente. Questo è il lavalier di Rode. Sentiamo come registra il suono della mia voce in ufficio. La registrazione è fatta impostando i livelli di guadagno del paramplificatore della camera a meno 12 dB e in fase di montaggio non ho toccato i livelli. Ecco, confronto i molti microfoni che uso normalmente. Questo è lo shotgun MCO Plus VMD02. Sentiamo come registra il suono della mia voce in ufficio. La registrazione è fatta impostando il guadagno del paramplificatore della camera a meno 12 dB e non ho toccato i livelli in fase di montaggio. Ecco, confronto i molti microfoni che uso normalmente. Questo è lo shotgun MCO Plus VMD03. Sentiamo come registra il suono della mia voce in ufficio. La registrazione è fatta impostando il guadagno del paramplificatore della camera a meno 5 dB e non ho toccato i livelli in fase di montaggio. Ecco, confronto i molti microfoni che utilizzo normalmente. Questo è lo shotgun RODE VideoMicro. Sentiamo come registra il suono della mia voce in ufficio. La registrazione è fatta impostando il livello del guadagno della camera a 0 dB e non ho toccato i livelli in fase di montaggio. Sono a una distanza di circa 60 cm dalla lente della camera. Ecco, confronto i molti microfoni che utilizzo normalmente. Questo è lo shotgun RODE VideoMicro. Sentiamo come registra il suono della mia voce in ufficio. La registrazione è fatta impostando il guadagno del paramplificatore della camera a più 2 dB e non ho toccato i livelli in fase di montaggio. Ok, abbiamo sentito come registrano l'audio. Ora confrontiamoli bene, vediamo come sono. Partiamo dai due lavalier. Li avevo citati all'inizio. Sono il RODE Link Love, che è questo, e l'LVD600. Differenze. Intanto il prezzo. Il RODE Link Love costa circa 85 euro. Le LVD600 circa 15. Dotazione. Vengono venduti con i loro sacchettini, con le spugnette sopra alle capsule. Sul RODE i Dead Cat si comprano a parte. Per l'LVD600 non esistono. La differenza fondamentale è che il RODE Link Love ha, oltre a un cavetto rinforzato in Kevlar, di una lunghezza di circa 1,50 m, ha la ghiera filettata sul spinotto del microfono. Questo assicura una tenuta perfetta sulla trasmittente. L'LVD600 invece non ha ghiere filettate, ma ha questo filo stralungo, è 6 metri più 2, che ha un vantaggio. Ti permette di utilizzarlo senza trasmittenti. Lo colleghi direttamente alla camera e il filo ti raggiunge tranquillamente. Ha anche questo barilotto, che ti permette di commutare il collegamento elettrico per essere adatto o alla camera, o allo smartphone, perché la contatteria è invertita. Pro e contro di questa cosa? Beh, intanto il cavo lungo può essere un pro se non utilizzi normalmente la trasmittente come io sto usando adesso, però se usi la trasmittente questo cavo così lungo dà fastidio. Io questo cavo lo trovo comodo perché lo uso spesso in macchina, questo. E quindi senza trasmittenti o altro io raggiungo la GoPro girando attorno ai sedili e fissandomi la capsula sul bavero. Altra cosa, la capsula dell'LVD600 è un po' grossa e di plastica. Quella dell'LVD600 è proprio piccola, piccola, piccola e di metallo. Non solo, anche la clip di fissaggio in questo caso è di metallo. Quindi ha una qualità costruttiva molto differente. Il rod link è una roba professionale, l'altro è una cosa molto basica perché il cavo è normalissimo, nell'altro è di gomma, questo qua è in Kevlar, la struttura del microfono nel rod è di metallo gommato, nell'altro è tutto plastica, insomma ci sono un po' di differenze. Invece a livello di qualità del suono sono molto molto simili. Sono praticamente indistinguibili per la maggior parte degli scenari. Andando nel dettaglio, proprio cercando il dettaglio, segnalo che l'LVD600 ha un pelo più di fruscio di fondo, una maggiore presenza in gamma alta e ai medi un po' meno presenti e rimbomba un po' di più. Inoltre è come se la voce non fosse così rotonda e pastosa, ma fosse leggermente gracchiante, un po' più nasale. Ora, sono veramente delle differenze che devi andare a trovare facendo i confronti parola per parola, timbrica per timbrica, quindi l'LVD600 funziona benissimo. Tra parentesi, in questo momento sto registrando con il rod Linglav, attaccato qua. Passiamo al confronto tra microfoni a fucile. Anche in questo caso uso come riferimento i due rod che uso principalmente, che sono il Rode VideoMic Pro, che è questo, e il Rode VideoMicro. Andiamo dal più economico al più costoso. Il VMD02, costa circa 20 euro e viene fornito con due cavetti, uno per la camera e l'altro per il telefono, con un dead cat e il suo sacchettino. L'attacco otso rotante ha il grande vantaggio di poter essere orientato verso chi parla, verso chi fa la ripresa, o verso l'obiettivo che si riprende. E' molto interessante, specialmente quando si fanno dei video in cui si racconta quello che si sta riprendendo. Anche qua vediamo un po' le differenze tra il VMD02 e il Rode VideoMicro. Anche stavolta la differenza principale la fa la costruzione. Rode VideoMicro è tutto fatto in metallo, il suo dead cat calza proprio bene, il filo è molto bello. Altro elemento di grande distinzione, parlavo prima dell'occio rotante sul VMD02, invece sul Rode è fisso, però è in ricotte, che è un materiale molto migliore per lo smorzamento di vibrazioni. Questa è plastichetta rossa e basta. Un grande vantaggio del VMD02 è che è corto e quindi anche con il dead cat montato non entra nell'inquadratura della GoPro se lo monti sulla GoPro. E' un grande vantaggio. Questo per me è il microfono che tengo sempre collegato alla GoPro. Come suonano? Altra caratteristica, veramente distinta, del VMD02 è che ha un livello di uscita molto alto. Quindi devi avere una camera con un preamplificatore che ti possa abbassare almeno di 12 dB il guadagno, altrimenti vai in clipping. Suono. Il VMD02 ha una buona qualità, ma il suono registrato rispetto al video micro ha un po' più di rimbombo che in ambienti rumorosi può togliere un po' di nitidezza. Sono un po' più presenti le gambe medie meno gli alti, ma suona bene, è un ottimo compromesso. Il VMM03, troviamolo, è questo qua, che è molto simile al VMD02, però le differenze fondamentali sono che il dead cat è molto più grande, poi viene fornito sempre con i due cavetti, il lozio rotante, ma in plastica e non in recrote. Insomma, è molto simile, il suo sacchettino ce l'ha. Come suona questo? Intanto ha un'uscita meno alta del D02, di circa 7 dB, quindi a meno 5 dB con la Lumix va benissimo. Il suono è migliore del D02, ma è molto simile. Anche questo, rispetto al video micro, è un pelo più rimbombante e un po' meno preciso nelle gambe alte. E adesso il microfono che io utilizzo in assoluto di più per i miei lavori, che è il Rode VideoMicro. Ha la dotazione un po' più scarna degli altri. Il filo che ti viene dato è uno per la camera, ti viene dato la spugnetta soltanto con il dead cat, negli altri casi hai sia la spugnetta che il dead cat. È costruito tanto bene quanto suona bene. Il guadagno nelle Lumix è circa meno 5 dB. La qualità del suono. Lo spettro è più completo di quelli precedenti, con anche gambe alte. Il suono che restituisce, lo sento molto asciutto, è facilmente intellegibile, un po' più pastosa e tridimensionale degli altri, anche presente in gamma alta. Inoltre ha poco rumore di fondo. Chiudo con il microfono a fucile di riferimento, ma che io uso veramente poco, perché di solito uso il Rode VideoMicro, perché è molto più pratico, perché è il VideoMic Pro, che è questa sleppa qua. Diciamo che il difetto principale di questo è che ha bisogno di una batteria per alimentarlo. E in più deve essere acceso e spento. Questa è una bella scomodità, perché se gli altri li monti e vanno, qua ti puoi dimenticare di accenderlo. E questa cosa mi è costata più di una ripresa. Viene venduto senza il Dead Cat che vedete qua, perché il Dead Cat è un vestitino da montare sulla sua spugnetta, che è questa qui. Suona molto bene. È un po' ingombrante, ma suona molto bene. Il suono che registra è un po' meno metallico, un po' più profondo e pastoso degli altri, ma non ha rimbombo. Sono assenti però quelle gambe alte, che rendono il parlato registrato del VideoMicro più chiaro e comprensibile. E quindi, visto che io spesso faccio parlato, sai che non lo uso tantissimo? Come dicevo all'inizio, sono tutti microfoni di alta qualità che danno un risultato molto buono. E le differenze di cui ho parlato nella resa sonora sono veramente di dettaglio. Alcune considerazioni finali. Per la voce il miglior fucile on camera non è paragonabile ad un discreto lavalier che garantisce il miglior risultato. Questo perché, come dicevo all'inizio, la distanza tra il microfono e la bocca nel lavalier è questa, e nel fucile, se va bene, è questa. E poi un po' di realismo. Ho parlato delle differenze tra i diversi fucili, però, teniamo conto che quando sei nel posto in cui riprendi all'aperto con rumori di fondo, rumori esterni, la macchina che passa, la gente che parla, queste differenze non si riescono a cogliere. Spero di avervi aiutato nella scelta dei microfoni economici, che funzionano bene, pratici, adatti alle vostre esigenze. Primo posto, evidentemente, il mio fido Rode Video Micro non viene scalzato assolutamente. Ha una grande qualità, è robusto, suono bello, è pratico, è piccolo, è il massimo, secondo me. Al secondo posto metto il Rode Link Love, questo, perché quando serve un lavalier con la trasmittente è favoloso ed è un ottimo compromesso presto prestazioni. Ci sono lavalier migliori, ma costano una barbarità. Al terzo posto metto il VMD-02, perché è il più economico di cui abbiamo parlato, ma il fatto che sia compatto e che abbia questo dead cat estremamente piccolo, per me è il microfono con cui io lavoro con la GoPro. Bene, spero che questo video qua, in verità abbastanza lungo, ma volevo raccontarlo bene, vi sia piaciuto e vi sia utile. Ci vediamo al prossimo video e non dimenticate di iscrivervi al canale e se indizionare la campanella così da essere informati sui prossimi video che pubblicherò. Ciao ciao!